Come guadagnare con YouTube? Oggi vediamo la parte delle sponsorizzazioni, vi capiterà se aprite un canale YouTube e cominciate a fare video in un determinato argomento, magari qualche azienda può interessarsi alla vostra audience e proporvi delle partnership, nel senso che voi dovete realizzare dei video, dei contenuti in cui sponsorizzate i prodotti dell'azienda e l'azienda vi paga. Ma mi è successa una cosa ragazzi, assurda, un'azienda mi ha contattato e mi ha fatto una proposta veramente ridicola per l'altro canale YouTube, io sono Michele Maraglieno, per chi non mi conosce faccio business online dal 2016 e in questo canale YouTube condivido la mia esperienza, quindi sto dando veramente un sacco di valore, iscrivetevi a questo canale, al momento non ho nessun corso, sto facendo crescere questo canale YouTube, forse creerò qualche prodotto perché comunque sto facendo tante consulenze, se vuoi aprire il tuo business online, vuoi essere seguito da chi ha esperienza, contattami nella descrizione, c'è la mail, contattatemi e poi iscrivetevi al canale perché veramente mi sto, diciamo, divertendo a fare questi video, al momento non sto vendendo nulla, a parte le consulenze, non che ci sarebbe qualcosa di male nel vendervi qualcosa, ma è semplicemente lo stato attuale del mio canale YouTube Business, si trova in uno stato in cui è quasi hobbistico per me, mi piace, condivido la mia esperienza, quindi per voi è molto utile perché sono online dalla fine del 2016, io ho una casa discografica o un ufficio stampa, lavoro nella musica e poi ho insegnato tutta la mia esperienza ai musicisti, a chi si vuole mettere in proprio, semplicemente tramite videocorsi, creando dei prodotti, anche delle consulenze, dei pacchetti, e li vendo online, ok, un altro canale YouTube molto più avviato di questo, e proprio in quel canale YouTube sono stato avvicinato recentemente da un'azienda, ok, un'azienda, ora non faccio i nomi, perché non faccio i nomi, perché in realtà le aziende fanno bene a cercare, diciamo, l'accordo migliore, il problema sono gli influencer, a volte che non vedono le cose dalla giusta prospettiva, non valorizzano la loro community e il loro lavoro, noi se ci mettiamo su YouTube, io ho fatto dei video su YouTube, andateveli a guardare, anche su tutte le tipologie di guadagni con YouTube, ho parlato diverse volte di questo argomento, ecco perché faccio questo video, se noi ci mettiamo a fare video su YouTube, ragazzi, è un lavoraccio per crescere, e andiamo a, a parte le competenze che dobbiamo avere per parlare di un certo argomento, e quelle competenze si creano sul campo lavorando e anche investendo informazione, ok, quindi è tanta, tanta roba, e poi tu ti metti online, fai video, crei una community, ok, una community, ragazzi, la community che tu crei su YouTube, targettizzata alla perfezione, perché tutta gente che ti segue su, su quel determinato argomento è che si fida di te, perché tu gli hai portato valore, ok, è preziosissima, è la cosa più preziosa che c'è online, soprattutto per un'azienda che deve sponsorizzarsi, soprattutto nel 2022, quando il costo del traffico pubblicitario è cresciuto a dismisura, c'è stata una pandemia, tutti si sono riversati online, cioè la gente fa delle campagne, le grandi aziende che fanno campagne di pubblicità online, spendono un sacco di soldi per acquisire un cliente, puoi spendere anche mille euro per acquisire un cliente che magari ti spenderanno nel corso della sua vita dieci volte tanto, venti volte tanto, cento volte tanto, e quindi ha senso, io gli spendo questi mille euro, e quindi quando uno viene da te e tu ti sei fatto il mazzo, ok, ti sei fatto il mazzo per costruire la community e ti dà le briciole, no, ma procediamo con ordine, quindi dicevo non faccio i nomi dell'azienda perché l'azienda fa bene, se trovano persone disposte a fare queste collaborazioni per due briciole, loro fanno bene dal lato loro, questo video è per gli influencer, questo video è per chi sta dall'altra parte per, diciamo, renderlo più consapevole di quello che ha e quindi per farsi pagare il giusto, adesso facciamo tutto, però non faccio il nome dell'azienda, saremo generici, anche perché mi ricordo quando organizzavo i concerti, ho organizzato nella mia esperienza qui a Perugia, ho fatto il direttore artistico, non per tanti locali, per qualche locale, mi è capitato e c'era, mi è capitato anche in una birreria e c'era uno dei soci che mi ha colpito con una frase che mi ha spaventato e quindi poi non ho più collaborato, perché mi ha detto il primo soldo guadagnato è il soldo non speso, e infatti non mi pagava mai perché voleva risparmiare, quindi le aziende cercheranno sempre di ottenere un accordo commerciale che sia vantaggioso dal punto di vista loro, ma adesso vi racconto tutta la storia perché è assurda, mi contatta questa azienda, che cosa sta, sta, oddio, ah ma forse, vabbè, scusate, sono stato, chiudiamo forse il computer, distratto, mi contatta questa azienda, no, un'azienda che ha un servizio, no, ha visto un servizio che è, diciamo, utile per la mia community, no, di musicisti, che cosa fanno? Allora io vi dico il mio accordo, ho un canale di 10.000, più di 10.000 iscritti, ho fatto collaborazioni con le aziende, però ne ho fatte poche, anche perché non è il mio mestiere, ok, io utilizzo YouTube per creare e vendere, cioè per vendere i miei prodotti, i miei pacchetti, i miei servizi, ok, la monetizzazione è attiva, ma è un giochino, l'ho detto anche in un altro short, un canale di musica, più di 10.000 iscritti mi genera come pubblicità di YouTube, tipo 150 euro al mese, non di più, quindi siamo briciole, poi, collaborazioni con le aziende non ne faccio, non ne faccio tantissime, non mi interessa, quando mi contattano, mi faccio pagare tanto, perché io quella community ci ho buttato il sangue, sono 10.000, più di 10.000 persone che praticamente mi seguono, è ovvio che ovviamente se tu fai un buon lavoro arriveranno le proposte perché le aziende sono interessate, cioè è come se tu hai già provato il pubblico, gli fai un video e quel pubblico si fida di te e quindi acquista, cioè tu stai dando, veramente stai affiancando il tuo nome all'azienda, quindi ti devi far pagare bene, quindi mi è capitato anche con meno di 10.000 iscritti di chiudere accordi per 1.500 euro per un video e poi anche questo video andava su diverse piattaforme, anche una newsletter alla mia community, quindi ho anche gli indirizzi mail, un pacchetto di promozione da 1.500 euro per un video e diciamo è un video che va su più su YouTube, su Facebook, poi un articolo del blog e anche poi una newsletter a tutti i musicisti, sono più di 20.000, capite? Forse è pure poco, però sono tutti prodotti, servizi che io utilizzo, quindi di cui mi fido e quindi c'è una bella collaborazione. Mi arriva questa azienda e mi dice guarda noi non diamo il fisso, non diamo niente, ti diamo soltanto 50 euro per ogni persona che entra tramite te, ok? Loro avevano magari un servizio, facciamo finta, da 300 euro all'anno, ok? Che è un servizio che poi si paga ogni anno e nel momento in cui la loro proposta era ti diamo 50 euro per ogni cliente che ci porti, detto in sostanza. C'era un link affiliato da cui loro tracciavano tutto. Io gli ho detto no, mi devi dare anche, va benissimo, non mi dare 1.500 euro, ma dammi 1.000 euro più l'affiliazione mi sembra, è pure una roba, pure un prezzo basso, ok? Però magari devi anche valutare che tu crei un contenuto che può essere utile per la tua phone unity e in più è sponsorizzato e ci sta, però 1.000 euro me li devi dare. Più l'affiliazione. E loro hanno detto no, preferiamo continuare con questo accordo vincente che prevede soltanto la commissione di 50 euro per ogni cliente. Cioè tu vuoi che io faccia un video in cui promuovo la tua azienda e io mi sono fatto il mazzo per creare la mia community. Quella community è già bella targettizzata su quell'argomento. Vede il mio video che parla di un problema, sollivo un problema e do come soluzione questa azienda, suggerisco questa azienda. Quindi è proprio la gente, ti porterai un sacco di gente, tu mi vuoi dare soltanto 50 euro. Se noi, il problema è, il problema è, se tu valuti l'accordo, dici vabbè faccio un video, mi danno 50 euro ogni cliente, è buono, alla fine faccio il video YouTube, lo indicizza, mi continuano ad arrivare. Sì, ma continuano ad arrivare clienti grazie a te, al tuo video, alla tua community e queste persone ti danno solo 50 euro. Quando tu hai fatto un lavoro di targettizzazione del pubblico, loro pagano soltanto nel momento in cui il cliente è già acquisito, ti danno solo 50 euro e loro si prendono un cliente che spenderà in media con loro per tutta la vita, essendo magari un buon servizio, resteranno a vita con loro, gliel'hai portato tu e questi spendono magari 10, 20, 30 mila euro nella loro vita con questa azienda e tu ti sei fatto pagare soltanto 50 euro per un cliente che gli hai portato tu. Capite che se la vediamo da questa prospettiva è anche poco farsi pagare 1000 euro. Cioè, se loro vanno a fare, se questa azienda va a fare una campagna pubblicitaria, sai quanto paga, proprio come schizza il costo di acquisizione cliente? Invece utilizza influencer? Perché questi sono stupidi, diciamolo. Cioè, ovvio, mi hanno mandato la scheda con gli altri influencer che hanno collaborato, gente di 20, 30, 50 mila iscritti che accetta il fatto di prendere soltanto 50 euro. Ok? Lì dice però, noi ti portiamo, cioè grazie a noi hai questa entrata ogni mese. Sì, ma grazie a me voi avete clienti ogni mese pagati soltanto 50 euro. No, tu, in realtà un accordo serio dovrebbe essere mi dai 5 mila euro, ti faccio magari 2-3 video, diventiamo parte. Cioè, quello che voglio dire in questo video è che è una roba veramente importante la vostra community. Non trattate, diciamo, il vostro lavoro come un qualcosa, sai, sui social, fai video. No, porca miseria, noi facciamo video che risolvono problemi, e diamo soluzioni e informiamo la vostra community su un determinato argomento. La nostra community ci adora, no? Perché noi facciamo tanti video, costruiamo nel corso degli anni, ci vogliono anni, ok? Per costruire, ci ho messo dal 2016, nicchia musica, per arrivare ai 10.000 iscritti, dalla fine del 2016, diciamo dal 2017, perché ho iniziato, diciamo dal 2017, quanti anni sono? Sono 5 anni. E quella è tutta gente in target, cioè musicisti, che hanno bisogno di quel servizio. Tu non mi puoi dare 50 euro solo quando, cioè, per loro i costi sono zero, ti danno 50 euro solo quando è avvenuta già la conversione. È ovvio che per loro va benissimo, e io non... Loro fanno benissimo, ma io voglio dire, a chi accetta queste cose, cercate di riflettere, di guardare le cose, di valorizzare il vostro lavoro e il vostro pubblico. Non potete farvi pagare così poco. Gli fate risparmiare un sacco di soldi, evitano di cercare con campagne, parole chiave, di trovare il giusto pubblico, mettergli la giusta pubblicità. Con voi evitano tutto questo lavoro, voi avete già fatto questo lavoro. Per loro, nel momento in cui le aziende ti vengono a chiedere una partecipazione, una collaborazione, stanno acquistando proprio tutto questo lavoro che tu hai fatto da te. Ed è un lavoro che hai fatto nel corso degli anni, quello di creare un gruppo di persone su un determinato argomento che hanno dei problemi. E poi le aziende si sponsorizzano perché tu gli proponi quell'azienda come soluzione. Cioè, per me è poco, soltanto 50 euro. Cioè, questi non hanno costi, pagano soltanto 50 euro a cliente acquisito la prima volta. Se mi paghi magari tutte le volte che rinnovano per sempre, mi dai 50 euro ogni volta che questo paga, quindi ok, già ha senso, ma tu mi paghi solo la prima volta. Ti acquisisci un cliente della Madonna perfetto per te a 50 euro e basta. No, non diamo compensi, ma voi siete pazzi. Cioè, no, voi che accettate influencer siete pazzi. Valorizzatevi. Perché funziona l'influencer marketing, così lo chiamano, non so. Cioè, perché alle aziende conviene? Perché a parte risparmiano e poi hanno il pubblico già bello targettizzato. Io mi ricordo, ragazzi, questa ve la racconto. E poi chiudiamo. Quando io ero all'inizio, no, mi piaceva l'idea di fare delle sponsorizzazioni con le aziende, di guadagnare, avevo 2-3 mila iscritti, però erano belli targettizzati. Andavo a chiedere, mi è capitato di andare a chiedere. Scusate. Di andare a chiedere io alle aziende. Di propormi come, guarda, ti posso fare la pubblicità. E un'azienda, sempre un'altra azienda che faceva un servizio per musicisti, diciamo, fa un distributore digitale, mi ha detto, no, guarda, noi con Google. Gli avevo chiesto anche io, mi faccio sempre pagare sempre il giusto, quindi era un bel prezzo, perché era comunque sempre per il ragionamento fatto, no, finora. Quindi mi avevo chiesto tanto rispetto alla norma, perché veramente gli influencer sono, non capiscono. Loro vedono, mi danno 50 euro ogni volta, poi YouTube, quindi io faccio 500 euro al mese senza fare niente. Tu stai spendendo il tuo lavoro, ok? Allora, loro, c'era questo distributore digitale, io mi sono proposto, posso farti un video, posso consigliare? E quelli mi hanno risposto. Mi sono ricordato di questa cosa proprio quando mi è successa quest'altra cosa che vi ho raccontato. E loro mi dicono, no, no, noi che facevamo le campagne Google, abbiamo già un ottimo, un ottimo... Ritorno, non abbiamo bisogno. Sono tornati dopo due o tre anni a propormi, e me l'hanno fatto per due o tre volte. Cioè ogni volta che cambiava il loro responsabile delle partnership, mi contattavano, io gli chiedevo sempre, 1500 euro, loro mi dicevano, no, noi diamo solo la percentuale. Ha fatto, no, non potete lavorare con me. Pazzesco. Cioè loro mi avevano cercato e poi è cambiato il mondo. Adesso che il traffico, il traffico, cioè fare pubblicità online costa tantissimo, l'influencer è un'ottima soluzione. Quindi ragazzi, per avere, per spendere poco e ottenere clienti. Quindi valorizzate il vostro lavoro. Se lavorate con YouTube e lavorate con le aziende o volete lavorare con le aziende, non svendete il vostro lavoro. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Se questi video vi piacciono, iscrivetevi al canale. Arriveranno tanti video. Andatevi a guardare quelli vecchi dove ho parlato di come lavorare con YouTube, guadagnare, personal brand versus cash cow channel. Qui trovate tutto. Iscrivetevi e vi aspetto nei commenti. Sono molto curioso di sapere cosa ne pensate. Ciao.